e allora buongiorno amici del colesterolo tutto bene allora buona colazione a tutti buon appetito e volevo dire a tutti quelli lì che mi vogliono male lì mi dico che muoio presto ancora poco tempo così sono diversi figli ma se tutti se è vero che mi allungano la vita ciao mi ripeto i gatti tagliamo il co come i lander vacca digga ma osti ma dammi un'altra cosa io mi chiedo ma cosa mangerà quella gente lì porca miseria cosa mangerà che vite sprecate fanno vacca digga ma brettio ma i paes salam vacca digga le non mi dici fai fatica a respirare ha accadega il porco lemo dispari così porta bene Non dovete essere nervosi Non dovete essere in collera con le persone Abbastanza gente che fa osservazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Robiolina di capra 1, 2 Dopo potremmo andare giù Ciao gente Buon appetito a tutti Buon appetito